L'idea parte proprio dalla prima conversazione con Elena al telefono perché appunto lei mi ha contattato ancora appunto in quella che era il periodo praticamente della seconda fase di questo anno così difficile con appunto la pandemia e annunciandomi appunto che Asia Modena di nuovo sarebbe stata chiusa come tutte le altre realtà purtroppo e che quindi si era pensato di creare uno spazio virtuale per appunto mantenere un filo per vedersi, per confrontarsi e per farsi anche venire delle idee insomma riuscire come dire a sopportare meglio questo periodo di allontanamento e mentre parlavamo dico ma appunto facendo io quando sono venuta da voi ho sempre fatto dei lavori laboratoriali cioè la mia esperienza è proprio quella cioè stare davanti a un'opera d'arte e osservarla insieme a lungo tempo e Elena appunto parlando così dice cosa vediamo no? Cioè dalle nostre case, dalla nostra postazione così costrittiva e io appunto le dico guarda se non avessi appunto lo spazio qui davanti a me questo verde che ho la fortuna rispetto magari ad altre persone che non possono avere la stessa fortuna e questi alberi che io vedo davanti mi danno una grande gioia, una grande serenità cioè è un momento e lei è il mio albero, l'albero che ho davanti alla fine ed è nato così quando mi è venuto abbiamo detto la parola albero e io la voglio ringraziare perché è la musa ispiratrice di questa idea che abbiamo costruito insieme e mi è venuto in mente Tuglio Pericoli di questo libricino appunto che adesso andremo a parlare che è appunto come lo ha sottotitolato lui cioè attraverso l'albero una piccola storia dell'arte e mi è venuto subito in mente quindi ho detto sì perché stare così costretti abbiamo bisogno attraverso anche quel poco di contatto con la natura che noi possiamo avere di cui abbiamo tanto bisogno allacciare l'immaginazione quindi questo è un piccolo grande libro, un piccolo grande regalo che ognuno di voi vi consiglio di poi insomma di farvi perché è veramente un laccio con è una radice, ecco cominciamo a evocare l'albero, è una radice che si allaccia all'immaginazione e quindi ecco l'idea nasce proprio da qui perché questo libro mi ha effettivamente fatto sussultare quando l'ho incontrato, ecco di vero bene Allora io so che ci hai dato anche qualche immagine Maria di questo libro, se sei d'accordo prova a condividerla Sì proviamo e così vi inizio un po' a raccontare per chi appunto non lo conoscesse già che è Tullio Pericoli dico giusto due parole sull'autore, ecco qui lo possiamo vedere appunto nell'angolo in basso e dietro a un suo autoritratto che guarda il paesaggio. Ecco Tullio Pericoli è conosciuto soprattutto per le sue illustrazioni che è una cosa che tra l'altro come dire una specificità che lui preferisce essere chiamato disegnatore e pittore e in effetti è più corretto Ah quindi non illustratore. Diciamo, no questo non lo, tutti lo riconoscono come illustratore ma lui preferisce essere chiamato disegnatore e comunque appunto la particolarità di Tullio Pericoli, ecco l'ho messo in mezzo a un po' quello che identifica la sua terra allora sono i suoi, fanno parte appunto dei suoi ritratti, lui nasce nel 36 nelle Marche e nella terra di tanti artisti vediamo nell'angolo in alto un ritratto che lui fa di questo ciclo molto interessante appunto che riguarda i ritratti arbitrari che lui crea e quello lì è Leopardi e poi appunto è vicino anche alla terra di Osvaldo Licini e appunto i ritratti che ho messo sopra fanno un po' parte di questa serie che lui realizza appunto per tanti lavori perché lui ha collaborato praticamente dal 61 da quando si trasferirà a Milano praticamente con le testate giornalistiche più importanti, la Repubblica, il Corriere, l'Espresso e poi con tutti i più importanti editori da Rizzoli a Einaudi ad Adelphi, quindi è veramente questo mondo creativo che va da quella che è appunto la parte più illustrativa di disegno e è quella invece che in qualche modo è più personale, che si è evoluta nel tempo che è quella appunto di pittore, ma un pittore un po' speciale, infatti questi due personaggi che sono sempre dei suoi disegni dall'uomo che guarda il mondo e l'ombino che ci guarda da dietro questo cannocchiale, questo binocolo e questo senso del vicino e del lontano che è l'aspetto che caratterizza appunto il suo modo di guardare Sì, anche uno specchio poi vicino vedo Esatto, esatto L'uomo si rispecchia nel mondo e in fondo il mondo è anche lo specchio è il nostro specchio e questo lo riferisco un po' al tema diciamo di fondo che ha questo incontro C'è il senso del contatto, del rapporto dell'uomo con la natura, noi lo vedremo un po' appunto attraverso l'arte anche nella fase finale, insomma di come l'arte in qualche modo si è nutrita e si è ispirata e non può assolutamente fare a meno della natura, ce lo racconteranno i nostri alberini E quindi ecco questo modo di guardare, di saper spostare lo sguardo Ecco io lui lo sempre appunto lo conoscevo in maniera appunto ecco come vi ho raccontato cioè guardando, leggendo cose, però non l'avevo mai visto in effetti come un pittore è quanto in realtà di sguardo filosofico, in realtà in maniera proprio naturale ecco lui applica al guardare il mondo, a come entrarci dentro e come guardarlo dal di fuori Ma perché Maria Tullio Pericoli e gli alberi? Quella è messa tra Tullio e gli alberi? Perché mi sfoggia? Ecco appunto perché fra i lavori, fra gli incarichi che lui riceverà riceverà anche questo incarico di andare ad illustrare l'albero di Jean Genot che è l'uomo che piantava gli alberi quindi a lui viene affidato diciamo questo compito di illustrare questo racconto che oramai è definito un classico perché è un piccolo, un breve racconto ma che all'interno ha una grande storia profonda appunto di un semplice uomo che aveva perso tutto e che progetta attraverso appunto il piantare gli alberi di ricreare una foresta e lo fa con determinazione e compassione un giorno dopo l'altro senza mai fermarsi fino a quando appunto questa figura dell'esploratore che molti nel tempo hanno identificato proprio con l'autore con Jean Genot che ha scritto questo piccolo racconto nel 1953 quindi era già un artista, uno scrittore affermato e quindi questo racconto ha una voce narrante che è l'escursionista e che incontra appunto l'uomo che piantava gli alberi e la modalità, il modo, la riservatezza, la cura e la determinazione soprattutto con cui quest'uomo riuscirà a portare avanti il silenzio e la solitudine anche con cui riuscirà a portare avanti questo progetto appunto è l'occasione che darà a Pericoli di andare a creare questo piccolo libricino degli alberi attraverso cui appunto lui ritrova questa ispirazione ecco questa che stiamo vedendo adesso è una delle tavole che ha costituito questo libricino e io leggerei proprio queste poche parole direttamente dall'introduzione che Tullio Pericoli fa di come appunto nasce poi questo ulteriore libricino così appunto ci agganciamo capite da dove è partita la sua idea il racconto di Jono non aveva proprio bisogno di illustrazioni era così limpido, compiuto, conteneva in sé già tutto immagini comprese, non aveva bisogno di essere tradotto in figure o spiegato con figure era invece un grande testo ispiratore un vero generatore di immagini che avrebbero sì potuto nascere da quelle parole ma poi andare con le loro gambe per strade diverse strade proprie mentre continuavo a leggere quelle righe e a ripetermi quelle parole feci disegni su disegni riempì i margini del testo di Jono di appunti e di schizzi disegnai tutto quello che mi passava per la testa ne venne fuori un libro forse più ricco di quanto l'editore si aspettava in ultimo mi venne in mente una grande tavola una sorta di catalogo in doppia pagina da sistemare al centro del volume in realtà non c'entrava proprio niente per il racconto ma mi piaceva molto l'idea disegnare i cambiamenti della forma dell'albero nella storia della pittura dal rinascimento a oggi la retrodatai un po' e cominciai da giotto ecco se vuoi mostrare la tavola ecco questo è l'esempio dell'alberino che lui disegna questo vi ho fatto vi ho messo un esempio per vedere appunto così di riallacciare e arriviamo alla sua tavola ecco praticamente ecco che cosa fa Tullio Pericoli mentre legge questo racconto che comunque ha già aveva avuto appunto delle illustrazioni tra l'altro poi magari Roberto segnalerà i riferimenti che ho lasciato perché appunto c'è stato anche un film animato che è stato premiato con l'Oscar di Friedrich Bach nell'88 quindi questo libro viene questa richiesta arriverà invece più tardi dieci anni più tardi a Pericoli nel 98 quindi ecco mentre quindi immaginiamoci proprio entriamo un po' nell'atmosfera di quello che stava succedendo in quel momento ha un artista che si trova a leggere un altro artista e che da questo deve trarre l'ispirazione per illustrare appunto questo racconto meraviglioso profondo e poi succede proprio questo che mentre lui legge questa storia inizia a immaginare tutti quegli alberi che nella storia dell'arte ha visto cioè quella quella mondo quella quella grande atlante appunto e qui ne fa appunto una una specie di piccola tavola tassonomica no? però fatta di quella immaginazione e rielaborazione appunto che guardandole io sono sicura che in questo momento ognuno di voi sta riconoscendo alcune di queste anche se non riesce a vedere l'autore che è scritto sotto ma sono sicura che ognuno di voi riconoscerà in questi alberini appunto l'albero e il pittore che l'ha realizzato ecco questo è l'aggancio dell'immaginazione il grande esempio appunto che ci dà Tullio Pericoli e questo perché appunto mi ha ancora di più entusiasmato perché da un punto di vista diciamo di appartenenza del modo di pensare delle immagini quindi un grande atlante delle immagini mi ha evocato proprio il lavoro del filosofo dello storico dell'arte Abbey Warburg che è stato uno degli storici dell'arte più importanti purtroppo scomparso nel 29 ma appunto per chi non lo conoscesse dico una cosa molto molto semplice cioè lui ha creato quello che viene definito cioè che ha chiamato lui così una ricerca è una modalità di ricercare come nella nostra memoria si crea un alfabeto visivo un grande alfabeto visivo ed è il Bilden Atlas Mnemosine che tradotto è semplicemente è l'atlante delle immagini ma andrebbe tradotto in maniera più precisa come l'atlante della memoria delle immagini appunto Mnemosine perché appunto lui fa tutto questo lavoro praticamente non so se lo conoscete comunque purtroppo per la pandemia è stata interrotta una mostra che è stata allestita a Berlino che purtroppo però adesso è visitabile online dove hanno fatto un grande lavoro di ricostruzione perché il metodo di lavoro di Abby Warburg era quello di creare dei pannelli su un fondo scuro e creare un filo attraverso il riconoscimento di uno stile di un segno che travalica i periodi storici e le epoche quindi un'immagine che può appartenere anche a duemila anni fa con immagini che pian piano possono arrivare appunto al tempo alla contemporaneità quindi sono state appunto ricreate queste e questi 63 pannelli in cui lui pian piano illustra come in realtà la nostra immaginazione la nostra mente costruisce crea trattiene quello che nella dalle immagini ci resta e quindi ognuno di noi ha dentro di sé un immenso un archivio immenso di immagini che poi appunto nella una qualsiasi modalità nel momento in cui ovviamente qui parliamo magari di artisti che creano e guardano quindi indietro questo lungo filo questa lunga radice che va fino all'inizio della capacità di creare delle immagini quindi ritorniamo alle caverne fondamentalmente sì Maria scusa cerco di capire meglio perché tu sei una delle persone che mi fa sentire più ignorante al mondo no assolutamente non dire così ecco sì allora se ho capito attraverso il lavoro di quest'autore tu stai cercando di dirci che noi siamo saturi siamo carichi siamo pieni di memoria di immagini arcaiche antichissime esatto e che queste immagini continuino a lavorare dentro di noi e le viaggiano escono entrano ma c'è un patrimonio dentro di noi di immagini questo stai dicendo esatto esatto ognuno di noi è un grande archivio di immagini e poi appunto ecco come ti dicevo quando ci siamo sentiti non voglio fare una lezione su come da un punto di vista scientifico da un punto di vista sensoriale si crea qual è il movimento che crea l'immaginazione appunto questi due autori Warburg si 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 innesta proprio ad hoc con 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 pericoli perché ci fa sentire in realtà a bambini nel senso che ognuno di noi quando ascolta una lezione anche in questo momento anzi è proprio quello che cominciamo a invitarvi a fare se avete una penna un quadernino qualunque cosa che un foglio dove state scrivendo o se l'avete vicino una penna un qualsiasi cosa ecco cominciate a far venire fuori il senso della forma degli alberi a partire da quello che iniziamo a vedere poi ne vedremo insieme qualcun altro però cominciate bella questa cosa cioè iniziamo a disegnare alberi sui nostri fogli in pratica esatto è quello che mi raccontavi un po' anche tu che hai fatto che ognuno di noi fa normalmente anche tu fa normalmente io continuamente disegno qualcosa mentre ascolto una conferenza online ormai lo facciamo tutti esatto quindi ecco è qualcosa che appartiene a tutti qualcosa di spontaneo però mentre noi non ci sentiamo artisti quindi non facciamo caso al fatto che quel modo di disegnare però è esattamente questo tipo di flusso cioè chiamolo così di capacità di andare a rintracciare nella memoria qualcosa che sicuramente abbiamo già visto ecco in questo caso è un artista che guarda gli artisti e che quindi ritira fuori da quell'alfabeto un alfabeto che è già ha già un codice visivo che si sviluppa nel tempo e che in questo momento appunto lui lo ridisegna secondo la sua sensibilità ecco però giustamente Roberto tu sei arrivato all'albero della vita di Klimt che possiamo tenere perché appunto il salto il salto in realtà il collegamento è che appunto l'albero ha una radice per noi antichissima appunto e comincia proprio con il tema dell'albero della vita e qui possiamo ti chiedo anche di far vedere l'altra che si aggancia a quella che è la nostra cultura ecco l'albero della vita che noi entrando in una in una chiesa abbiamo visto riproposta tante volte ecco questa è una diciamo probabilmente fra le tante la più famosa di Taddeo Gaddi che è in Santa Croce a Firenze ecco qui c'è tutto appunto e quindi Klimt quando va a rielaborare nella sua modernità il tema dell'albero della vita all'interno di un discorso che prevarica appunto il che scavalca il tema cristiano ma va a rintracciare però quel significato che ha esattamente l'albero cioè l'albero rappresenta esattamente come nell'umano le sue radici affondano nella sua storia nel tempo e costruisce pian piano attraverso i suoi rami attraverso le sue foglie tutto quello che ne deriva quindi dal passato fino all'attualità al nostro presente a noi stessi quindi e l'albero appunto tutto parte tutta l'immaginazione tutta la costruzione grafica parte proprio da quell'idea del giardino dell'Eden cioè se noi pensiamo agli artisti a come si è costruito questo tipo di tema nasce proprio appunto per il nostro per la nostra cultura la cultura ebraico cristiana intorno all'albero della vita l'albero dell'Eden tutto comincia nel giardino fiorito dell'Eden quindi inizia con un albero di melo melograno o fico quindi abbiamo proprio una una radice che va indietro assolutamente nel tempo Maria ti posso interrompere un attimo giusto per capire provo a orientare quello che hai appena detto su di me in modo che ciascuno lo possa fare io ho un patrimonio interiore di immagini le mie sono specifiche io per dire se vedo una quercia ad inverno io penso subito a un neurone se vedo un albero penso subito all'albero bronchiale se vedo le foglie penso subito a questo innestarsi della materia e dell'aria e respirare vuol dire che ognuno di noi e poi dopo avrà immagini anche più arcaiche in fondo io sono sceso da una da una pianta un paio di milioni di anni fa quindi ho iniziato a camminare ma prima abitavo su un albero quindi tutte queste immagini tu dici sono depositate in te e se tu fossi Klimt se tu fossi un vero artista riproporresti quello esatto la tua rielaborazione per vedere per creare questo nuovo attinge assolutamente a quel tipo di alfabeto noi non potremmo ecco qui cito un'altra artista per me molto importante la Maria Lai qualcuno di voi immagino che la conosca per i suoi telai per i suoi figli ecco noi dobbiamo immaginare che tutto il nostro bagaglio visivo viene da radici lontane cioè lei diceva io quando vedo un telaio sento di avere dietro di me mille anni di fili di telaio quindi il senso è questo cioè noi non abbiamo noi non potremmo creare noi non potremmo avere una nuova immaginazione non potremmo pensare a qualcosa di nuovo se dentro di noi non avessimo questo alfabeto immenso infinito disegni disegni che si rielaborano e attraverso ovviamente la propria sensibilità è capace di restituire una nuova immagine chiarissimo quindi forse tu adesso puoi farci vedere dell'esperienza dell'esperienza di alberi che forse noi abbiamo potuto fare e che qualche artista è riuscito a renderci meglio come faremo noi esatto io appunto ho preso l'idea cioè sempre dalla perché appunto dalla continuità ecco del libro di Pericoli alcuni appunto non volevo esattamente ricrearvi come nell'esempio che avevo fatto prima dell'alberino con l'esempio di Giotto ma lasciare appunto un po' l'immaginazione libera e quindi vi ho proposto una serie di immagini e di artisti che anche Pericoli ha utilizzato ma vorrei che come a livello di laboratoriale scorrendo queste immagini lasciatevi completamente andare alla visione io dico solo qualche parola giusto per darvi un accompagnamento e poi appunto man mano che vi viene l'istinto di disegnare e anche di scrivere un sentimento o un'emozione fatelo perché sicuramente queste immagini appunto andranno a ripescare qualcosa di antico all'interno di voi quindi ecco da un bosco che ci arriva da un immaginario di un artista americano vedete siamo portati all'interno del bosco la sensazione di essere avvolti da alberi altissimi e il senso dell'inoltrarsi lasciamo un respiro andiamo avanti ecco ci troviamo in un'altra atmosfera con una pittura più sfumata con una luce diversa ma ritroviamo gli elementi semplici della campagna alberi che somigliano ad olivi da una parte sul sfondo vediamo una parte con dei 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 pini e lo spazio davanti a noi ci dà il modo appunto di sostare in quest'area verde di rimanere nella campagna conosciuta restiamo un respiro vai pure Roberto ecco e qui ecco il senso anche del tempo delle stagioni siamo appena usciti dall'inverno domani sarà il primo giorno di primavera ecco questo sole ci ricorda qualcosa che cambia vediamo questi alberi che diventano concreti proprio per il colore bianco soffice della neve che si posa sui rami che sono ancora spogli e poi di nuovo una grande apertura appunto cambia la stagione abbiamo questo filare immenso che ci porta lontano dei pioppi il colore della luce che fa muovere tutto fa muovere le cime degli alberi fa muovere le foglie fa muovere l'atmosfera ci sentiamo come presi dentro un abbraccio e poi ecco questa è una dimensione che forse ci appartiene molto ecco il chiuso delle città come dicevamo all'inizio il fatto di essere un po' costretti in una città fatta di mattoni di asfalto ma se guardiamo sullo sfondo probabilmente appunto attraversando con lo sguardo la linea dell'orizzonte lungo la strada o troviamo improvvisamente un albero che spunta così come spuntano queste palme da dietro la fabbrica di mattoni dipinta da Picasso e ci sorprende improvvisamente ci sorprende e poi il melo quante volte lo abbiamo visto lo conosciamo ma queste linee che si dispiegano all'interno di questo spazio e in qualche modo ci ricordano il segno di quello che sarà il frutto di questi semicerchi che ricordano in qualche modo quasi uno spicchio e diventa una circolarità intorno all'asse centrale e diventa un un senso di seguire l'occhio cercando continuamente cercando continuamente restando sempre con lo sguardo all'interno e si è portati dalla linea da questa linea così appunto semicircolare che guida completamente lo sguardo e poi la sensazione incredibile ecco del del ramo di mandorlo in fiore ecco questo sotto in su ognuno di noi quando si trova di fianco a un albero di solito appunto noi siamo più piccoli guardiamo verso l'alto guardiamo verso il cielo e restiamo affascinati restiamo catturati restiamo rapiti e questo è una questo però è una storia importante ovviamente ora non non racconteremo ma è questo questo a guardare dal basso verso l'alto verso questo cielo da un respiro infinito apre verso una dimensione altra e ci accompagna noi respiriamo con questi rami che si stagliano sul fondo del cielo e questo è un altro elemento veramente immediato sono i piccoli elementi di albero l'albero della vita anche qui Matisse riprende il tema originario e ovviamente con la sua rielaborazione questa è una vetrata meravigliosa e fatta così con la stessa idea di quella di quella luce che va a richiamare il cielo quindi questo tema appunto che abbiamo ritrovato in Van Gogh lo ritroviamo in maniera diversa anche in Matisse e poi un altro degli elementi importanti che è un altro paesaggio van Goghiano con i cipressi il movimento della natura il cipresso è uno degli alberi più antichi più significativi mettono in contatto il basso verso l'alto e ovviamente il segno di Van Gogh porta sia meraviglia che inquietudine come uno spazio aperto molto ampio in cui siamo circondati dalla natura dai colori ma allo stesso tempo anche dall'atmosfera che in qualche modo muove il nostro animo e poi ecco Friedrich anche questo è stato evocato appunto dai disegni di Pericoli e qui è un'atmosfera completamente diversa c'è qualcosa di spoglio di immediato di qualcosa che ci riporta quel senso della della natura in senso romantico qualcosa che ecco ecco la natura è e sia e ha è una voce dello spirito quindi ecco questo è il senso di Friedrich e poi ritorniamo appunto man mano sempre verso un respiro che diventa quasi più metafisico questo è un un carrà maturo un carrà che ritroviamo dopo l'esperienza futurista e ritroviamo quella sintesi quegli alberelli che ci riportano appunto a quella compattezza giottesca che abbiamo conosciuto nei primi passaggi di questo discorso e ritroviamo tutta la mediterraneità della nostra della nostra capacità visiva di andare a rintracciare attraverso questo pino marittimo con questa appunto compostezza la grandezza la grandiosità del simbolo di quel di quell'albero e si dispiega si dispiega nella nella nostra memoria e poi ma gritto ovviamente il questo momento assolutamente di innesto fra reale e questo senso di di surrealtà e questa natura che cerca di compenetrare l'umano e l'umano che cerca in qualche modo di di sfuggire come come a volersi liberare vorrebbe attraversare la natura senza sentirla ma questo è praticamente impossibile e quindi c'è questo questo dettaglio della 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 come a tessere come a cercare di non restare impigliati per per l'uomo nella natura ma in questo senso invece è il suo destino non può non può non restare impigliati non può restare impigliato nella natura e questo è un altro respiro Morandi che ci mostra ancora una strada bianca e si apre intorno la collina si apre l'appennino con tutto quello che appunto è un paesaggio familiare ma allo stesso tempo assoluto e nella nella semplicità ma assoluta verità della della visione Morandiana ritroviamo appunto ecco un'atmosfera di casa di qualcosa che conosciamo bene ma allo stesso tempo se andiamo a guardare nel dettaglio appunto così come quello sguardo che Tullio Pericoli ci insegna cioè a entrare nel 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 dettaglio non riconosciamo più quindi ecco questa è un'opera che si presta proprio a quel tipo di sguardo da vicino da lontano questa strada che porta verso l'infinito e va a incrociare nel fondo il cielo ecco questo completa il la serie delle opere scelte ecco poi questo era il passaggio alla contemporaneità ridotte la parola Roberto è molto difficile avere la parola dopo quello che ci hai fatto vedere no io non ho delle riflessioni particolari mi ha colpito molto Magritte per esempio perché questo integrare fondere intrecciare l'albero e noi è secondo me molto importante noi siamo siamo contenuti dagli alberi non è che siamo esterni ad essi ecco questa è la cosa che mi viene in mente cioè l'albero è un formatore di mondo veramente a tutti gli effetti ma non del suo mondo di tutto il mondo del mondo di migliaia di esseri viventi e cercare di uscire da quella dimensione come hai detto giustamente Magritte ci dimostra che è impossibile poi guarda altri mi hanno emozionato troppo per cui non riesco a dire niente ecco infatti ecco questo piccolo laboratorio che ovviamente nella modalità è un po' limita però ecco sono immagini che muovono tantissimo quindi io immagino che appunto per ognuno di voi sia stato colpito sia da immagini che magari aveva care come alfabeto del proprio immaginario e allo stesso tempo magari appunto si è sentito la spinta a voler provare a disegnare qualcosa ecco io riguardando queste opere mi riemoziono con voi perché non sono mai vista il senso dell'immaginazione è questo cioè questo alfabeto è sempre in continuo movimento e come ha detto Roberto appunto l'albero non è altro che il nostro specchio e ci rappresenta completamente quindi e l'arte si occupa appunto in che modo ecco la domanda e come effettivamente soprattutto in questo tempo in cui si sente tanto il tema oramai diciamo usiamo le parole canonice dell'ecologia no? cioè quindi ma la storia dell'arte ci insegna intanto che la natura è l'elemento primo di ispirazione in assoluto e immaginiamo come tantissimi artisti si siano persi appunto come Frederick nell'interpretare la natura e che la natura sia esattamente identifichi proprio il bisogno spirituale dell'uomo e da questo da cui non si può trascendere e noi quasi tutti immagino pratichiamo lo yoga da tanti anni e conosciamo la posizione dell'albero e che cosa vuol dire radicarsi nella terra ecco l'albero è proprio questo è la radice di tutto il significato di tutto quando noi lo guardiamo sentiamo ci sentiamo fermi quando guardiamo un albero ecco diciamo con eleno che magari una giornata in cui ci si sente agitate quell'albero che poi appunto riusciamo a guardare dalla nostra finestra improvvisamente ci riporta centrati in noi stessi quindi questo è l'elemento questo è veramente l'elemento fondamentale e ci sono alcuni artisti appunto che lo hanno praticato e compreso in maniera precisa artisti che si sono impegnati e coinvolti appunto nel creare dei progetti che poi hanno in modo diverso stanno continuando nel tempo io ovviamente ho dovuto scegliere per il tempo che avevamo soltanto ecco un paio di esempi e fra questi a me più cari c'è l'esempio di Joseph Boyce che è stato un grandissimo artista lui si è impegnato in prima persona appunto nella lotta politica purtroppo è mancato poco dopo aver avviato il suo progetto nell'87 qui lo vediamo ritratto appunto nella prima grande mobilitazione che ha creato intorno a questo progetto che ha chiamato appunto difesa della natura e sono le 7000 querce ed era il progetto appunto presentato a Cassel in questo caso era l'edizione la settima edizione è un evento che appunto si tiene a Cassel ogni 5 anni ecco nell'82 praticamente voi lo vedete di fianco a questa montagna di lastre di basalto erano appunto le 7000 lastre di basalto che lui ha con cui ha coinvolto la popolazione facendo un'offerta acquistando queste lastre di basalto ogni lastra di basalto praticamente ricavato sarebbe servito a comprare una pianta di quercia ecco possiamo vedere anche l'altra immagine ecco questa è un'immagine ovviamente contemporanea e vedete che di fianco a ogni albero è piantata una lastra di basalto ecco ora il progetto ovviamente dall'82 si è evoluto è andato avanti noi vediamo questi alberi ora a distanza di 40 anni sono alberi arrivati a un punto di maturazione praticamente però il significato per Bois di piantare di fianco appunto la lastra di basalto era anche quello che se anche l'albero si fosse ammalato o per qualche motivo avesse avuto dei problemi quindi quel posto quel posto era il posto della quercia quindi nessuno avrebbe potuto sostituire il posto di quell'albero di quella quercia e così appunto il progetto che ovviamente è andato è ancora continua nel piantare perché ovviamente lo spazio della città intorno a Cassel non era così semplice non aveva di fronte ecco il bosco cioè quello che è diventato un bosco delle colline spoglie così come nel racconto di Jean Genot ma aveva appunto una città che era già strutturata ecco possiamo andare avanti scusa Roberto che così mostro l'altra immagine in cui appunto questo progetto dopo appunto la scomparsa precoce di Bois sta andando avanti grazie al coraggio di questa associazione che si è fondata intorno alla figura di Lucrezia Durini e di suo marito lei è una una signora ora di quasi 90 anni credo perché nell'84 nel 1984 nascerà appunto questo progetto a Bolognano che si trova in Abruzzo e che oggi quindi ce l'abbiamo in Italia e quindi può essere l'occasione anche di poter andare a visitare quello che è uno spazio replicabile ecco replicabile quindi questo progetto nell'idea di Bois era quello di poterlo replicare in tutto il mondo e quindi ecco questo è un piccolo esempio di come questo progetto sta riuscendo in qualche modo ad andare avanti anche di questo ho lasciato il riferimento perché è molto importante perché effettivamente sta trovando terreno fertile nelle nuove generazioni e poi l'altro progetto invece forse di un artista che vi è capitato di vedere è più di frequente perché oramai è un progetto che va avanti da vent'anni ed è stato ideato da Michelangelo Pistoletto il progetto si chiama Il Terzo Paradiso e come vedete poi vi ho messo questa immagine proprio perché appunto il suo progetto lui ha preso il simbolo dell'infinito ecco sempre un'altra immagine che ritorna e vedete che è sovrapposto c'è il simbolo dell'infinito lui ha creato questo simbolo che è praticamente al centro ha creato questo spazio che ha chiamato noi quindi non c'è l'io non c'è il tu quindi ecco anche il discorso Roberto che facevamo sull'alterità no? la natura come cosa e io distante e quindi più ci siamo come dire inebriati di questa della modernità della tecnica e del fatto che noi possiamo gestire la natura ecco non faccio commenti ecco l'idea appunto di un artista che forse lo conoscete magari continuiamo a scorrere che è un grande artista dell'arte povera forse appunto abbiamo messo un'immagine di riferimento immagino appunto la venere degli stracci in qualche modo l'avrete incontrata visivamente appunto è una delle sue prime opere a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e qui ecco l'artista vi ho messo questa immagine perché è l'artista ecco lui è nato nel 33 quindi immaginate è un signore che anche diciamo vent'anni fa insomma era un artista maturo un artista affermato un artista appunto con una sua età ecco lui si rimette in gioco completamente vedete qui cerca l'impatto minimo cioè riprende un aratro a mano per disegnare appunto quello che sta diventando un progetto possiamo anche andare avanti con appunto che è possibile richiedere e ce ne sono alcuni esempi vi ne ho messo un paio in cui appunto il simbolo del terzo paradiso diventa una possibilità di creare un bosco un oasi uno spazio verde all'interno di aree possono essere appunto parchi associazioni anche un privato ovviamente sono stati io vi ho scelto quelle che in sé portano dentro anche tengono l'albero però è stato realizzato anche con altri materiali sempre di che hanno a che fare con il legame con la natura e quindi il senso è questi 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 grandi progetti appunto che vogliono andare oltre anche la possibilità di essere realizzati dall'artista stesso cioè questi artisti stanno consegnando un progetto un'idea una nuova idea di arte natura ecco andiamo oltre anche all'idea di land art citavamo anche con Roberto appunto forse molti di voi l'hanno già visitato artesella in Trentino che è uno spazio molto molto bello e consiglio di visitarlo perché per chi ancora non l'ha fatto e lì c'è un un terzo paradiso di pistoletto ecco e lì si compenetra appunto il senso ancora di del tema appunto di land art con una progettualità di arte natura ecco sono appunto e mi dirò se non ci addentriamo perché appunto resiamo di più sui significati però il senso è questo ecco l'arte sta dando un contributo si sta interessando appunto a portare anche un messaggio costruttivo e di rapporto di un nuovo rapporto dell'uomo con la natura e l'albero è è stato uno degli elementi appunto perché riconosciuto da tutti come archetipo ecco e qui e proprio di questi giorni sapete appunto notizie ovviamente che è a questo anno di covid il 18 marzo proprio per non dimenticare questa pandemia è stato creato il bosco della memoria ecco questa immagine io l'ho presa dall'eco di Bergamo che ha pubblicato ovviamente ha dato la notizia e appunto si è creato questo bosco della memoria di 100 alberi che saranno piantati a breve ma poi appunto è destinato a crescere questo ovviamente è uno spazio verde che già esiste ma di questo tipo di iniziativa intorno appunto al ricordo a legare quindi il respiro di chi non c'è più a un albero è un progetto di grande forza di grande forza morale di grande come dire monumentalità che però di nuovo torna a radicarsi nel rispetto della natura è andare a ricreare una nuova intesa che è appunto quella anche dell'idea di pistoletto cioè andare a ricreare un nuovo ambiente un'altra idea di arte e di rapporto dell'uomo con l'arte di far prendere coscienza all'uomo che la natura l'albero è esattamente vita cioè stiamo parlando esattamente di una stessa e unica cosa stiamo parlando della vita e quindi ritorniamo proprio a quel senso arcaico che è l'albero della vita che è il giardino dell'Eden che è lì tutto da dove è iniziato il seme della vita quindi noi non possiamo scavalcare la natura appunto quel Magritte non può lasciare andare non ci può lasciare andare senza rimanere impigliati nella natura è impossibile perché stiamo parlando esattamente della nostra stessa vita non usciamo da questo cerchio se non lo vediamo come un cerchio se non lo vediamo appunto come quel cerchio in mezzo all'infinito quell'infinito si dissolverà perché effettivamente si romperà questo patto tra l'uomo e la natura ed è una cosa molto bella appunto quello che mi dicevi tu ieri Roberto che e qui ti chiedo te di ripeterlo perché sei più adatto da un punto di vista della spiegazione cioè che appunto gli alberi e la vita sono usciti insieme dall'acqua mi dicevi ah sì sì è uno dei dei mille dei mille discorsi in cui ci siamo incrociati no uno pensa che gli alberi siano una cosa antica invece gli animali una cosa più recente gli alberi e gli animali sono usciti dall'oceano nello stesso momento 400 milioni di anni fa di circa le radici sono state inventate poco tempo fa tutto sommato quindi noi siamo esattamente compagni di viaggio non è che uno ha preceduto l'altro uno vale l'altro uno sfrutta l'altro noi siamo usciti insieme stiamo camminando insieme non si può dividere questa storia però mi veniva una riflessione su quello che sto dicendo io stesso e che hai detto tu prima che c'è un luogo comune per cui vedere le cose in questo modo ci porta un'affermazione tipo è tutto uno è tutto un'unità ma a me torna di più quello che dicevi tu prima cioè è tutto vivo è tutto pulsante di vita è tutto pulsante di stupore di sorpresa mi convince di più di tutto è uno che mi sembra che faccia riferimento a un piano metafisico che riassorbe i singoli enti no ogni singolo vivente ogni albero ogni pianto ogni arbusto è vivo è sentito vivo è sentito esistere ecco questo è un commento che mi veniva da fare sì certo sono sono anche io d'accordo con te e in questo punto anche la questa pulsazione cioè noi non cioè non va privilegiato nell'uno nell'altro questo modo di come dicevo all'inizio cioè guardare da vicino e guardare da lontano ecco se noi fossimo capaci veramente di immedesimarci meno in questo o anche nella nostra idea di unità in quel senso lì in un senso è tutto uno come no invece ognuno di noi ha una grande responsabilità cioè ognuno di noi deve andare vicino e andare lontano per ritornare a vedere come stanno le cose e quindi per andare a dire che io è l'albero siamo vita allo stesso modo io devo uscire dalla mia condizione di quella unità che invece mi renderebbe secondo me più appannato e riandare a ritrovare quel rispetto che invece pian piano ci siamo secondo me si è assottigliato proprio in questo in questa abitudine ecco anche quella idea lì è un'idea di abitudine e quindi invece il saper già che ci sono scusa no già che ci sono c'è un altro luogo comune che ho voglia di provare a criticare con te che è quello che ad esempio con l'albero noi stiamo proiettando sull'albero qualcosa le nostre menti le nostre intuizioni le nostre aspirazioni a me sembra che sia più il contrario cioè come quando vai all'ombra di un albero ed è lui che proietta l'ombra su te cioè lasciamo che gli alberi proiettino su di noi la loro atmosfera la loro profondità cioè immaginarli non è proiettare immaginare come l'hai parlato tu all'inizio mi sembra proprio lasciarsi penetrare dalla vita non proiettare la nostra mente sugli alberi o sulle cose sì sì in questo senso Roberto appunto uscire fuori da questo sorta di stereotipo avevamo parlato anche ieri dell'andare di provare a abbracciare l'albero perché gli alberi ecco adesso sta diventando anche questo una nuova proposta perché di solito se uno si ferma in un parco e abbraccia un albero tutti quelli che ti girano intorno ti guardano come se fosse un po' no no incatenare però ecco per ecco noi ritorno qui un attimo al collegamento anche di quando abbiamo imparato a fare le asano io all'inizio c'è voluto del tempo per sentire il corpo che in quella posizione nella staticità invece pulsava ecco se noi abbracciamo un albero ma lo abbracciamo con quella mente attiva in cui appunto ancora pensiamo alla natura come qualcosa di usabile come qualcosa che ci sta per servire no oppure appunto un albero da frutto da cui vado a prendere i frutti per mangiarla ma se se invece l'abbracciamo e entriamo in quel ritmo dell'albero cioè in quella sua vitalità in quel suo respiro in quella linfa che scorre allora sì che diventa qualcosa che finalmente possiamo prendere dalla natura e quell'albero ci sta parlando molto più a lungo di noi molto più a lungo di noi lui è sulla terra appunto per quel senso che un filo non si scollega mai cioè l'albero ha quel filo appunto della di quando è uscito esattamente dall'oceano e noi abbracciandolo stiamo abbracciando tutta quella storia ora se noi non riusciamo ad essere consapevoli di questo cioè di quanto effettivamente la presenza di e l'incontro di un albero se lo accogliamo ci racconta ecco è chiaro che questo che questo passaggio no di ritornare a farci parlare dalla natura come molti artisti invece riescono a vedere con la loro sensibilità è chiaro che hai ragione tu cioè siamo sempre noi che che ci prendiamo no lo spazio di dire qualcosa alla natura ma la natura se non se non riusciamo ad accoglierla ad ascoltarla non riusciamo a sentire il loro ritmo ecco ci vuole secondo me ecco anche qui ritrovo in questi due racconti in questi due artisti uno scrittore è un pittore tanta umiltà ecco oggi secondo me se noi avessimo un po' più di umiltà secondo me il rapporto uomo natura quella capacità sarebbe sicuramente più sano ecco